Aracia, Lickham è veloce, non è come te! E poi ti dico, aspetta ma dopo è finito? No, poi ti dico, ah ma è un'altra cosa però. Si è un'altra cosa, noi se riusciamo a fare questa subito siamo gli eroi! Aspetta un attimo, me la puoi rifare un secondo, vai!